ciao salve a tutti vedete che bella non ho molto tempo di far sopralluoghi le api sono qua vedete sulla menta selvatica quel sapore che vi dico del miele inconfondibile poi adesso conferma vedete che sono venuto a fare un sopralluogo guardate che bella che è questa menta ma guardate che belle che sono adesso partirà tutta un'altra serie di fioriture questa è mentuccia e ria menta selvatica guardate che bellezza questa cicoria è alta quante me è un metro e settanta un metro e settanta e tre è alta quanto me guardate che bella ma bellissima è la fioritura della menta assieme alla melata alla melata di acacia e tutte queste altre fioriture è bellissima questa fioritura guardate che bella ma un profumo fa stupendo ha un profumo eccezionale e ce n'è molta ce n'è molta loro continuerebbero nel raccolto ma io come le fermerò le fermerò adesso finché regge il video vediamo in apiario gli alveari eccole qua loro le api vedete sono su il raccolto e purtroppo ci sono alcune tipologie di fioriture che durante il sopralluogo il momento in cui possa andarci io e non ci sono sul luogo